Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della Puglia Benvenuto a una puntata abbiamo ospite un giovane cantatore, Ferretti A questo punto un rocker In questo punto la domanda più spontanea che si sorge Per chi non ti conosce ancora Però poi ti conoscerà perché sei molto bravo Come lo descriveresti oggi? Prima di tutto ciao a tutti Lo descriverei come un artista piuttosto interdisciplinare Nel senso che vengo da un mondo che è quello della recitazione Per poi approdare alla musica Quindi sono un misto di influenze e di generi diversi E a questo punto parliamo dell'ultimo singolo Che è Pittore In fondo possiamo dire che l'artista, il cantante È anche un po' un pittore Perché rappresenta, descrive con le parole In realtà con la musica ciò che il pittore dipinge Sì, in generale si tratta comunque di arte L'unica differenza diciamo è nel mezzo che viene usato Quindi sì, pittore, musicista, attore o altro È più o meno la stessa cosa In questo brano diciamo che io racconto una storia Che è la storia di un pittore e di due prostitute Che lui frequenta abitualmente Però in generale la storia è una metafora Del significato vero che c'è dietro al pezzo Che è diciamo nato come tentativo di esaltazione E di ricerca nei confronti del vuoto e della distanza Quindi, non lo so, in quel preciso momento Mi interessava provare ad approfondire Cosa si nasconde, cosa si cela dietro L'allontanamento e la lontananza e la distanza Piuttosto che dietro alla vicinanza appunto Perché, come dico nel brano Soprattutto nell'intro del brano Spesso la distanza, il vuoto, il silenzio Fanno paura perché mettono a nudo Mettono di fronte alle proprie debolezze Quindi è molto difficile magari Accettarsi in un contesto di vuoto Nella realizzazione dei tuoi testi Previci essere un po' più longevo, descrittivo Oppure un po' più sintetico, un po' più ermetico Diciamo che venendo dal rap Ho ascoltato sempre tantissimo rap E quella matrice è molto forte In quello che faccio Sono, diciamo che tendo a dilungarmi Tendo a scrivere molto E a scrivere testi molto lunghi In generale Poi è chiaro che con il tempo E con Sicuramente sperimenterò anche forme diverse Rispetto a questa Ma per ora Scrivo molto, è così Ci sono tante parole nelle mie canzoni E invece Nascono prima le parole Nasce prima un beat, un riff Un qualcosa musicale Oppure possiamo dire che Accidentalmente a volte nascono insieme Sì Diciamo che nella mia produzione Fino ad ora Quindi nei dieci pezzi Che ho già pubblicato Sono nate prima le parole Sempre E poi Intorno a quelle parole È stato costruito Diciamo un vestito di Di musica Però attualmente Sto lavorando Già un prossimo disco Un prossimo progetto E Ora in realtà Sto lavorando all'inverso Quindi sto scrivendo Prima la musica E poi scriverò i testi Diciamo che cerco Un po' di Di variare Anche per Per essere un po' più stimolato E per trovare Soluzioni diverse Vediamo una Una copertina Del singolo Che è Chiaramente Rappresentazione Di arte Da chi nasce Quest'idea Di questa copertina E poi Qual è il risultato finale Con tanti colori Accesi Comunque Ada Molto colorata Sì Allora Diciamo L'idea Nasce Di riflesso Al Al singolo Al pezzo Quindi Volevo Rappresentare Diciamo La scena finale Della canzone Che è Quella in cui Le prostitute Trovano Il pittore Morto Suicida E Ho lavorato Anche per questa copertina Come per Quasi tutte le copertine Dei miei brani E dei miei Del mio EP Con Lorenzo Sigona Che è un ragazzo Un grafico Che appunto Con cui collaboro Che è bravissimo E che riesce Sempre a Diciamo A mettere A mettere in pratica Le mie idee E invece Poi suonato dal vivo Anche perché Hai vinto Rock Targat Italia Qual è stato Cosa ti porti Da quel Oltre che Finalista Di musicultura Quindi Nelle nostre zone Ma Che cosa ti porti Dietro Della Vincita Del Rock Targat Italia Cosa Emozione Ti sei portato Dietro E tuttora Ti porti Dietro In quelle sensazioni In generale È stato Molto bello Perché era la prima volta Che suonavo Fuori Fuori dalle marche Fuori da casa Insomma Quindi è stato È stato Sicuramente bello Come prima volta Come esperienza In generale Poi La vittoria È stata alla fine La ciliegina sulla torta Ma sarebbe stato Comunque Comunque Bello Allo stesso modo Anche senza vincere Diciamo Però Mi ha anche aperto Diverse Diverse porte Diversi contatti Perché la collaborazione Con l'ufficio stampa Con cui sta uscendo Questo brano È nata Dopo Rock Targat Italia E poi il 21 marzo Tornerò a suonare Nello stesso locale Dove ho suonato Alla finale A Rock and Roll A Milano Per presentare Questo singolo Quindi diciamo Che È stato Bello E Soprattutto È stato Utile Per Per progredire Per andare avanti Se Non dovessi Aver suonato Questo brano In forma Rock In quale Altro genere L'avresti Se riesci riuscito Ad adattarlo Perché il testo Comunque È complesso Poi Alla fine Con quale Genere Differentemente Da Rock Credo Che sia Un brano Comunque Molto Molto Intimo E Quindi Magari In una versione Più acustica In un arrangiamento Più povero Anche Chitarra e voce Chitarra acustica e voce O anche piano e voce Credo che Renderebbe Insomma Credo che sarebbe Comunque Bella Poi in generale I pezzi Se funzionano in acustico Piano e voce Chitarra e voce In generale Funzionano anche Arrangiati In maniera Più complessa Però Questo qua Nello Nello specifico È È un brano Molto intimo Che Secondo me Si presterebbe Anche a quella forma E invece Le sensazioni Che provi Nella salire Sul palco Tanti comunque C'hai Un pubblico Che Forse Probabilmente A volte Non te ne accorgi Perché sei Concentrato Sul brano Sul Tutto Che Che Parla Tutto Perfetto Però In realtà Tu senti Un po' Quell'energia Che sale E ti Convolge E che tu Ritrasmetti E poi Con le tue Canzoni A loro Quali Le tue Sensioni In quel caso Questo Credo Valga un po' Per tutti Chiaramente Quando suoni Live È sempre Bellissimo E Personalmente Quello che sento E quello che mi piace E mi spinge a farlo È il fatto Che Secondo me La vita Sul palco È vita All'ennesima potenza Cioè Quello che senti Quando Quando sei In Diciamo Quando stai Performando È qualcosa Di fortissimo Che non riesce A darti Nessun'altra Nessun'altra Situazione Nessun altro Contesto Di vita Ecco Quindi Questo Ma credo sia Ripeto Per tutti Così Per tutti Gli artisti Per tutti I performativi Diciamo Invece Scendendo Poi al palco Tu incontri Le persone Che ti guardano E le vedi Rilassate Contente O comunque Quello sguardo Non ti parla Ma ti hanno Quella sensazione Che hanno Appreso Hanno fatto loro Quella sensazione Che tu volevi Descrivere E a quel punto La tua Sensazione Che provi Nel vedere loro Oltre che Ti chiedono Forse qualche selfie O l'autografo Ma Quella è la tua Sensazione Chiaramente Dopo Dopo aver suonato Stai bene Perché Dopo un'ora Di adrenalina Quando scendi Sei rilassatissimo E sollevato Quindi È bellissimo Cioè Dopo aver suonato Stai da Dio In generale Le persone Chiaramente Non sono ancora Riconosciuto E riconoscibile Quindi Queste Queste situazioni Qua Non ci sono Non ci sono Mai Però è chiaro Che magari Ricevere un complimento O fare una Chiacchierata Costruttiva Anche da un punto Di vista Magari Critico È sempre È sempre Un piacere Per me Un po' Nella vita Si è tutti fan Però passare Da sotto il fan Sotto il palco Essere fan Ad essere Sopro il palco Per suonare Agli altri Invece Quelle Le sensazioni Diverse Che ci sono Oppure Può essere Anche uguali Nel caso Io personalmente Fin da Fin da piccolo Da sempre Quando vedevo Qualcun altro Suonare O recitare O comunque Stare su un palco Diciamo Mi proiettavo Sempre al posto suo Cioè Ho sempre avuto Questa Questa spinta Questa Questa voglia Di Di farla Questa roba qua Quindi in realtà Non mi sono mai sentito Veramente a mio agio Come fan Come Come spettatore Ho sempre voluto Essere al di là Diciamo Rimanendo comunque Molto aperto Al dialogo Perché secondo me È fondamentale Che ci sia Che ci sia Scambio tra L'artista E il pubblico È fondamentale E questa roba qua Quando si perde È un dramma Enorme Però io personalmente Mi sono sempre Mi sono sempre Immaginato E visto Sul palco Insomma E Quanto è influenzato Il mondo attoriale Visto che tu hai detto Sono anche attore Che è una parola Comunque complessa Perché l'attore È una parola Molto di complessa Nel suo genere Quanto è influenzato Il tuo modo Di Salire sul palco Come attore Per poi Intraprenderla Come musicista C'è qualche Cosa che ti sei portato Dietro dal mondo Attoriale A livello musicale Ma Sì Quasi ogni cosa In realtà Oltre Oltre la tecnica Banalmente Mi sono portato Dietro tutto il bagaglio Di Conoscenze Di Emancipazione Creativa E di libertà Che mi ero In qualche modo Costruito Nella Nel mio percorso Di formazione attoriale Che poi Non è mai Non è mai Stato veramente Un lavoro Nel senso Che ho avuto Qualche esperienza Professionale Come attore Ma Sono passato Quasi subito Alla musica Dopo Dopo Lo studio Diciamo Perché la musica Era una roba Che fin da Fin da piccolo Fin dall'adolescenza Mi Mi incuriosiva Ma non l'avevo mai Non avevo mai avuto Forse il coraggio O la necessità Di Di approfondirla E di approfondirla Soprattutto attraverso Un progetto Che fosse mio E che fosse appunto Inedito Quando questa necessità Questa maturazione In qualche modo È organicamente Arrivata Io Sono Diciamo Mi sono proiettato All'interno Della Della musica Quindi del medium Musica Con tutto il bagaglio Della formazione Attoriale Quindi Anche dal punto di vista Della scrittura Dell'interpretazione Banalmente Della presenza Scenica Sono tutte cose Che mi sono tornate Utilissime E che fanno parte Di me Del mio stile Quindi Sarebbe anche Diciamo Stupido Cercare di Somigliare A qualcuno Magari Più classico Di me Perché Credo Che alla fine Diciamo I pregi Di un artista Siano I suoi difetti Diciamo così O le sue peculiarità In qualche modo Però C'è qualche artista O Che comunque Vada È saputo Cogliere E far tuo Perché non si tratta Di rubare Però Far tuo Adattando le tue Caratteristiche In fondo Ti sei portato Di dietro Un pochettino Ti influenza Anche nel modo Di scrivere O di lavorare Dal punto di vista Della scrittura Tutto Tutta la scena Rap italiana Della Diciamo Della golden age Del rap Quindi tutto Quello che Tutte le produzioni Che ci sono state Dagli anni Novanta Fino ai primi Anni Duemila Tutto quel mondo L'ho Letteralmente Divorato Quindi Non so Chaos One Colle del fomento Neffa Il primo Neffa Quando ancora Diciamo Era un rapper Io vengo Da quello Vengo da quel tipo Di scrittura Diciamo Introspettiva Spesso anche Politica E' stata E' stata La Diciamo Il punto Di partenza Per Per andare Poi a lavorare Su Su cose mie Questo singolo Ha un video Oppure C'è Possibilità Di poterlo Vedere Un video Per ora Non c'è Diciamo Che uscirà Senza video Però Magari Più avanti Lo Realizzeremo Ora Non è Stato Fatto Perché Non avevamo Tempo Banalmente Di farlo Perché La Pubblicazione Sarebbe Slittata Di Troppo Tempo Volevo Uscire Ora A marzo Perché Comunque Ho pubblicato Un ep Quest'estate A luglio E Questo brano Qui Pittore In realtà È un brano Che In qualche modo È già vecchio Cioè è un brano Che ho scritto 4-5 anni fa E che porto Dal vivo Già da Un anno e mezzo Quindi è un brano Che doveva uscire Non aveva senso Ancora Aspettare E quindi Diciamo Non ho Non ho fatto il video Per questo motivo qua Però Non escludo Che Verrà fatto In futuro Ecco A questo punto Progetti futuri Eventi live Che In Questo periodo Oppure Ti porta Si pensa Già all'estate Progetti futuri Sto scrivendo Un nuovo disco Quindi L'idea È di pubblicare Magari Già Qualcosa Per la fine Di quest'anno E A cavallo Tra il 2024 E il 2025 Uscire Con Con un album Diciamo Per quanto riguarda La parte live Chiaramente Per quest'estate Sto già Organizzando Diverse Diverse Serate Però Se devo Segnalare Un evento In particolare Direi Appunto Il 21 marzo A rock and roll A milano Vicino alla Stazione centrale Dove suonerò Sicuramente Pittore Per presentare Questo singolo E in generale Suonerò Alcuni pezzi Non farò Un set Completo Perché non Non c'è tempo Diciamo All'interno Di Quell'evento Però suonerò Con la mia band Quindi Set in elettrico Credo Una ventina Trenta minuti Di scaletta Quindi Se qualcuno Di Quelli Che stanno Guardando Dovesse Essere Da quelle Parti Fate Un salto A rock and roll Il prossimo Disco Sarà In formato Digitale O soltanto Digitale Oppure Potrà Essere Anche In forma Fisica Sicuramente Anche In forma Fisica Anche L'EP Che ho Pubblicato Quest'estate È uscito Sia in Digitale Che In formato Fisico Quindi Anche Ecco Se Venite Alla Serata E Volete Acquistare Il cd Potete Acquistarlo Perfetto Allora A questo punto Ci mancano Due cose Fondamentali Dove Poterti Raggiungere Poterti Ascoltare E I saluti Finali Allora Mi trovate Chiaramente Su tutti I social Quindi Instagram Facebook Youtube Come Ferretti O Suono Ferretti Ma Insomma Se non mi Trovate In un modo Mi trovate Nell'altro E Su Spotify Mi trovate Invece Semplicemente Come Ferretti Spotify E tutte Le altre Piattaforme Di streaming Quindi Apple Music Amazon Music Eccetera E E Questo Poi Niente Grazie mille Di Di Questo Spazio E A presto Studio Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno Presentato L'intervista Di Pietro Ospite Della Puglia Questa Questa E La Storia